Un porto per consegnare gli aiuti umanitari via mare a Gaza, l'annuncio degli Stati Uniti, 20 persone già morte per malnutrizione. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden si rivolge alla nazione con il suo discorso sullo Stato dell'Unione, al centro le guerre, il diritto all'aborto e il confronto con Trump. Un porto temporaneo nella striscia di Gaza, questo l'annuncio degli Stati Uniti che intendono costruire una banchina vicino alla costa per distribuire alla popolazione gli aiuti umanitari via mare. A dare l'annuncio è stato il presidente statunitense Joe Biden mentre pronunciava il suo discorso sullo Stato dell'Unione. Non si esclude il dispiegamento di una nave ospedale. Al momento le limitate rotte per gli aiuti via terra sono integrate dai lanci aerei condotti da diversi paesi, ma per l'ONU la soluzione migliore sarebbe consegnare gli aiuti via terra. 576 mila persone sono a rischio di carestia e 20 nel nord di Gaza per lo più bambini sono già morte di malnutrizione. La Spagna finanzierà con 20 milioni di euro l'agenzia dell'ONU per i rifugiati palestinesi. L'agenzia è in una situazione difficile dopo le accuse secondo cui 12 membri dello staff a Gaza avrebbero avuto un ruolo negli attacchi di Hamas. È di almeno tre morti e quattro feriti, di cui tre in gravi condizioni. Il bilancio dell'attacco alla nave mercantile True Confidence di proprietà greca ma battente bandiera delle Barbados, colpita mercoledì 6 marzo da un missile balistico nel golfo di Aden. Tra le vittime un vietnamita e due filippini. La conferma è arrivata dal Dipartimento dei lavoratori migranti delle Filippine. Il missile è stato lanciato dalle milizie iemenite UTI mentre la nave transitava a circa 50 miglia nautiche a sud-ovest della città portuale di Aden, nello Yemen. In seguito all'attacco, l'equipaggio ha abbandonato la nave. Tra le condanne dell'attacco, quella del portavoce del Dipartimento di Stato statunitense Matthew Miller che durante un briefing con la stampa ha promesso una risposta. Un portavoce degli UTI ha invece ribadito che il gruppo ribelle iemenita continuerà a condurre attacchi contro le navi legate a Israele in Mar Rosso fino alla fine della guerra a Gaza. È iniziato con una grande ovazione l'atteso discorso del Presidente degli Stati Uniti Joe Biden sullo Stato dell'Unione. Biden ha parlato per 68 minuti rivolgendo al Congresso e alla nazione un intervento insolitamente energico e vigoroso. ha attaccato Donald Trump ben 13 volte, ma senza mai chiamarlo per nome. A former Republican Presidente dice Putin, quote, do whatever the hell you want. That's a quote. A former Presidente actually said that bowing down to a Russian leader, I think it's outrageous, it's dangerous, and it's unacceptable. Questo discorso quest'anno è particolarmente importante dal momento che, a otto mesi dalle elezioni, Biden con i suoi 81 anni deve convincere l'elettorato di meritare un secondo mandato e di non essere troppo vecchio per svolgerlo. I temi principali sono stati quattro. l'importanza della democrazia, la tutela dei diritti riproduttivi e dell'accesso alle cure mediche, la ripresa economica e l'immigrazione. Il generale Valery Zanusnyi è stato nominato ambasciatore nel Regno Unito. Come indicato dal Presidente Zenesch e dal Ministro degli Esteri Kuleba, la nomina dimostra l'interesse di Zanusnyi per la diplomazia. Il generale è stato rimosso il mese scorso dalla carica di comandante in capo delle Forze Armate Ucraini. General Valeriy Zanusnyi ha parlato di un tipo di strada diplomatica. Ministerstvo Zacarboni di Sprave Ucraini направo la loro sapere in Agriman. Nasce amministrazione con Britannia deve solo riuscire a trasferire. In visita a Kiev il segretario della difesa britannico Grant Sheps ha annunciato nuovi aiuti militari per l'Ucraina per un valore di circa 150 milioni di euro si tratta soprattutto di droni da combattimento e da ricognizione Giovedì la videoconferenza organizzata dal governo di Parigi che ha visto alla partecipazione di 21 ministri il segretario generale della Nato Stoltenberg ha ulteriormente rafforzato il sostegno dei paesi dell'alleanza Kiev Il ministro Kuleb è tornato a chiedere munizioni e missili a lungo raggio Con uno scambio di documenti a Washington Giovedì la Svezia ha aderito ufficialmente alla Nato a due anni dall'invasione russa dell'Ucraina L'entrata della Svezia ci rende più forti ha dichiarato il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg Stoccolma porta in dote all'alleanza atlantica una flotta di sottomarini all'avanguardia e i caccia militari Gripen di produzione nazionale Arco, la fiera internazionale dell'arte contemporanea torna allo spazio fieristico di Madrid arricchita da un numero sempre crescente di artiste rappresentate sebbene le donne siano ancora a meno della metà dei partecipanti nel 2018 solo il 19% della produzione artistica era declinata al femminile In fiera a Madrid sono presenti circa 205 gallerie il 65% delle quali sono internazionali e rappresentano un punto d'incontro tra Europa e America Latina Ha avuto una tendenza al cambio tanto nel mercato del arte e nel sistema del arte in generale come, conseguentemente, anche in questa feria che ha venuto un po' impulsato per tutta la risposta social e feminista desde il mondo del arte desde le associazioni, desde le nostre artisti, desde le nostre comissari ose, le professioni e i professioni del arte denunciabano che non poteva essere che le donne fossero un 80% in bellas artes e poi arriviamo a la feria più importante del arte español e fossero un 20% L'evento è un appuntamento da non perdere per collezionisti, operatori museali e aziende private Arco Madrid si svolge fino al 10 marzo presso il quartiere fieristico Ifema della Capitale La polizia catalana ha smantellato un intero giro di produzione e vendita di falsi di opere di Banksy il celebre quanto anonimo street artist britannico Quattro persone sono indagate per frode e reati contro il diritto d'autore I sospettati lavoravano da anni su questo progetto vendendo i falsi in Spagna, Germania, Stati Uniti, Regno Unito e Svizzera Dall'inizio delle indagini nel luglio scorso sono state scoperte almeno 25 vendite di falsi per un totale di 10.000 euro Gli inquidenti hanno dichiarato che l'indagine è ancora aperta e non si escludono altre vittime e nuovi arresti Ancora problemi per Boeing Un aereo della United Airlines diretto in Giappone ha perso un pneumatico durante un decollo da San Francisco Una delle ruote del montante sinistro si è staccata ed è caduta saltando sul parcheggio dei dipendenti dell'aeroporto Non sono stati segnalati feriti tra passeggeri ed equipaggio ma sono state danneggiate diverse auto Il volo è stato poi deviato all'Osangeles ed è atterrato in sicurezza L'aereo è stato progettato per decollare e atterrare anche senza alcune ruote Avviate indagini per far luce sull'incidente L'aereo è stato progettato per la scuola Il volo è stato progettato per la scuola è finanziato per una costa di serviscono che ogni ufficienza e ricolle un po' di serviscono Un po' di serviscono Un po' di serviscono Gratiscono Il volo è stato progettato Questo valore è stato progettato per l'Aereo e per la scuola Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Buon neustrattamento e possibili nuovi soli Sottotitoli e revisione a cura di QTSS